Buonasera a tutti, benvenuti all'ormai tradizionale appuntamento con le interviste di sinistra classe rivoluzione. Questo lunedì siamo qua con Enrico Duranti, militante notriv di Crema in Lombardia, per discutere sul coronavirus e l'effetto sulla lotta contro il cambiamento climatico. Un argomento quanto mai importante e decisivo per chi vuole cambiare il mondo in senso rivoluzionario. Ringraziamo intanto Enrico per essere qua con noi e io subito passerei alla nostra prima domanda. Quale credi Enrico che saranno le conseguenze della pandemia e della crisi economica conseguente alla pandemia sui cambiamenti climatici? Particolarmente sarebbe interessante anche se tu approfondisci il tema della crisi agricola che sta devastando. Grazie. Sì compagni, quali saranno le conseguenze della pandemia e di questa crisi economica sul cambiamento climatico? Questa pandemia di fatto ha messo a nudo l'irrazionalità del modello economico odierno, ma c'è da dire una cosa, che anche il cambiamento climatico aveva messo a nudo di fatto l'irrazionalità di questo sviluppo capitalista. L'impatto di questa pandemia che ha sull'economia è un impatto indubbiamente devastante che avrà delle ripercussioni serie per quanto riguarda il cambiamento climatico. Arrivo subito al dunque perché io penso che bisogna essere chiari e espliciti su questa questione. Con questa crisi economica di fatto le varie potenze mondiali tenteranno di risollevarsi dalla crisi proprio mettendo da parte tutte le varie lotte e promesse per quanto riguarda il cambiamento climatico. Cioè attualmente la tecnologia disponibile per fare una transizione verde non è ancora disponibile e quindi dovranno ancora fare affidamento di fatto a tutto il loro vecchio modello tecnologico che è un modello tecnologico fondamentalmente che si basa sulle energie fossili e quant'altro. Quindi vedremo di fatto dei rischi per tutti quegli accordi che erano stati fatte con le varie COP, penso a COP 21 come Parigi o anche quelli prima o anche quelli dopo. Ad esempio l'uscita dagli Stati Uniti da COP 21 è un piccolo assaggio di fatto di quello che effettivamente succederà. Non è un caso ad esempio in Italia che una di quelle promesse, di tante promesse che erano state fatte dopo le mobilitazioni dei giovani che hanno visto milioni di giovani scendere in piazza a livello mondiale, una di quelle tante promesse come la plastic tax che era una cosa veramente minuscola rispetto a quello che si richiedeva di fatto è stata accantonata, è stata sospesa fino al 2021 quindi da quest'anno non ci sarà la famosa plastic tax oppure si sta prendendo come modello proprio di sviluppo per far ripartire dei famosi cantieri e per cantieri si parla anche delle grandi opere, si sta parlando ad esempio del modello della ricostruzione del ponte di Genova, cioè dove di fatto cosa vuol dire da un punto di vista ambientale? Vuol dire andare a mettere da parte tutte quelle normative ambientali, quindi alleggerire, snellire da un punto di vista burocratico tutte le varie procedure e quelle che più ne risentiranno da questo punto di vista saranno proprio le valutazioni ambientali, quindi il rischio serio è che tutte le grandi opere ripartiranno con proprio mancate valutazioni ambientali o comunque uno snellimento di queste valutazioni ambientali in cui non verrà preso complessivamente cioè tutti i rischi, tutti gli impatti di queste grandi opere sul paesaggio e sull'ambiente circostante. Non è un caso, altra questione, ad esempio che tra i codici a teco per la ripartenza delle varie aziende dopo di fatto la famosa pandemia si è parlato di far ripartire subito anche le estrazioni e le di idrocarburi, quindi attività fortemente impattanti, cioè che però per lo Stato vengono considerate strategiche e non potevano assolutamente fermarsi. Questo di fronte tra l'altro a un crollo dei consumi degli idrocarburi, cioè quindi siamo veramente di fatto al paradosso. Detto questo, gli impatti che ci saranno da parte della crisi economica saranno di fatto devastanti, cioè come dicevo ogni nazione tenderà a fare da sé, lascerà di fatto da parte tutta quella che sono le varie politiche per la lotta al cambiamento climatico e avremo degli effetti devastanti che già si stanno vedendo per quanto riguarda ad esempio il petrolio, ma possiamo anche citare di fatto anche il settore agricolo che è direttamente collegato anche con la questione del cambiamento climatico che sta già subendo una forte crisi dovuta a questa pandemia. Prendiamo solamente ad esempio il settore dell'industria per la produzione delle materie agricole o per la produzione del cibo. Ad esempio l'impatto di questo virus nelle ultime settimane per quanto riguarda l'industria alimentare è un impatto che sta avendo degli effetti devastanti. Se ne sta parlando molto ad esempio di lavoratori proprio di focolai, di lavoratori che si ammalano nei mattatoi e nei macelli, ad esempio quello che sta succedendo negli Stati Uniti è del tutto paradossale dove aziende come la Smithfield Food che è la principale azienda produttrice di carne di suini negli Stati Uniti che da sola produce il 5% della carne dei suini, ha dovuto chiudere le concorrenti di questa azienda come la JBS o la Tyson Food anche esse hanno dovuto chiudere per l'alto tasso di lavoratori che si sono ammalati o sono addirittura deceduti. La capacità produttiva di carne di suini a livello statunitense è crollata di un terzo, dal 30% nelle ultime settimane o addirittura di quella di bovini è crollata di un quinto. con dei problemi commerciali seri, seri che non solamente all'interno degli Stati Uniti. Ricordo che gli Stati Uniti sono un paese non solamente produttore ma anche esportatore e ad esempio la Cina sta avendo dei seri problemi per quanto riguarda la carne suina perché di fatto gli Stati Uniti erano il principale partner dove comprare la carne suina e il crollo della produzione di carne suina negli Stati Uniti sta avendo dei forti contraccolpi. Il mercato è del tutto distorto da questo punto di vista. Se da un lato vediamo il rischio, questo qua viene dato, lo leggevo proprio in questi giorni su uno dei principali quotidiani borghesi italiani che è il sole 24 ore, il rischio dato da Commodity Future Trading Commission che è la commissione che di fatto regola le varie commodity a livello borsistico dove si parlava non solo del rischio di future negativi per quanto riguarda il petrolio come abbiamo visto nelle ultime settimane ma addirittura per le materie prime quindi per le materie prime agricole quindi materie prime agricole che potrebbero subire nel prossimo periodo proprio dei prezzi negativi o comunque un crollo dei prezzi. Se da un lato vediamo questo rischio sui future vediamo dall'altro lato ad esempio dei segnali di prima inflazione per quanto riguarda tutta una serie di materie prime fondamentali. Ad esempio in Italia il riso arborio è aumentato dal 30%, il riso carnaloi è aumentato dal 20% nonostante l'Italia sia una grandissima produttrice di riso tanto che noi ad esempio non importiamo riso se non il riso asmalti perché tutte le altre varietà di riso noi le produciamo in Italia. Quindi se da un lato vediamo il rischio di future negativi dall'altro vediamo delle spinte poi sul mercato dirette di aumento dei prodotti agricoli dove tra l'altro l'Istat sta già dicendo proprio di una inflazione da questo punto di vista. I maiali ormai sono come il petrolio cioè sono troppi non sanno più dove metterli tanto che negli Stati Uniti si sta parlando e si sta prendendo la decisione di abbattere e di abbatterli e di incenerirli e non solo negli Stati Uniti ma anche in Canada e se da un lato negli Stati Uniti vediamo le salsicci e le braccioli che sono scarse nei supermercati dall'altro punto vediamo una sovrapproduzione di beni alimentari di carne di suina che non viene di fatto venduta non viene venduta ma viene abbattuta cioè sopprimere e incenerire di fatto le carcasse. L'Axios che è un'agenzia stima delle perdite di 22 miliardi di dollari nel settore delle carni e dei latticini a livello statunitense. Altro esempio gli allevatori di polli ad esempio sempre negli Stati Uniti stanno rompendo le uova perché di fatto la capacità produttiva è troppo e non sanno di fatto dove venderla. Siamo a un paradosso perché se da un lato la FAO o l'ONU ci parlano del rischio di carestie dovute proprio a questa crisi economica, carestie che sono serie perché il problema è che il mercato a livello mondiale è andato a cambiare totalmente la capacità produttiva delle varie nazioni. Tanto che le nazioni, tantissime nazioni non sono autosufficienti da un punto di vista alimentare. Prendiamo il caso dell'Italia. L'Italia è uno di quei paesi che potrebbe subire un fortissimo contraccolpo per quanto riguarda un'eventuale carestia alimentare. Perché? Perché l'Italia non ha una grandissima autosufficienza alimentare, cioè l'Italia ha una grandissima autosufficienza alimentare per quanto riguarda il vino, quanto possa piacere a Baudelaire ma noi non possiamo campare solamente di vino. Ha una grandissima autosufficienza alimentare di riso, di carne e di pollo ma basta. Abbiamo un'autosufficienza alimentare per quanto riguarda la frutta e la verdura, ma questo è direttamente collegato ad esempio al cambiamento climatico. Tanto che le gelate che ci sono state nei primi di marzo hanno creato dei serissimi problemi per quanto riguarda le produzioni agricole nel nord Italia, tanto che si parla di una possibile crisi quest'anno per quanto riguarda la produzione di ortaggi e di frutta. Quindi di fatto ad esempio l'Italia avrà dei seri problemi che potrebbero accentuarsi ancora di più con proprio questi eventi estremi che stiamo vedendo sempre più spesso dovuti al cambiamento climatico. E quindi la FAO e l'ONU parlano di possibili rivolte del pane, parlano di possibili carestie e siamo al paradosso perché mentre la gente muore di fame e sempre di più milioni di persone moriranno di fame dovute a questa crisi economica accentuata da questa pandemia del coronavirus, dall'altro lato vediamo i produttori di prodotti alimentari distruggere la produzione nel nome del profitto perché guadagnano di più nel distruggere la produzione piuttosto di ridistribuirla tra le masse, tra le popolazioni e quant'altro. Questo è il grandissimo paradosso dell'economia, del modello di sviluppo economico capitalista. Ecco, proprio nel fine del tuo intervento tu ti incentravi sulla questione del crollo drammatico del prezzo del petrolio. Mai visto negli ultimi decenni almeno. Ora, quali credi che saranno le conseguenze di questa crisi petrolifera sui investimenti e la ricerca di energie alternative? Non credi che queste potrebbero subire un grosso stop da parte degli investitori e delle multinazionali? Sì compagni, la crisi del petrolio che noi stiamo vedendo avrà degli effetti importanti per quanto riguarda la transizione ecologica. Ma prima di rispondere a questa domanda io penso che sia necessario fare due passaggi per capire cosa vuol dire questa crisi del petrolio e perché c'è stata questa crisi del petrolio. Questa crisi che vediamo è la crisi più profonda degli idrocarburi addirittura più profonda da quella della grande depressione degli anni 30. Tutti gli analisti sono concordi su questo. Cioè siamo di fronte a una crisi di sovrapproduzione di caratteri che non si erano mai visti. Tanto che il crollo dei prezzi del petrolio che noi abbiamo visto nelle settimane scorse con prezzi che hanno raggiunto prezzi negativi, future che arrivavano a perdere, avere valori dei meno 40 dollari. Abbiamo visto dei listini, penso ai listini dell'Oklahoma, abbiamo visto i listini del Texas, del North Dakota o del Michigan perdere il 2000%, il 2500% in una giornata. perché? Perché di fatto è una crisi di sovrapproduzione. Cioè in questo momento con il crollo dei consumi che ha toccato dei livelli inimmaginabili. Qualche economista, leggevo su ad esempio il Sole 24 Ore, parla di crollo dei consumi paragonabile a quello della seconda guerra mondiale. Si parla di crollo dei consumi che oscela tra il 30% e il 50% per quanto riguarda l'energia. Addirittura in certi settori ha toccato le quote del 90% perché se pensiamo ad esempio il settore aerospaziale è totalmente bloccato. Questa crisi di sovrapproduzione dimostra l'irrazionalità del sistema economico capitalista. Perché se da un lato abbiamo un crollo dei consumi, dall'altro le aziende hanno continuato in questi mesi a estrarre materie prime dal sottosuolo, in modo del tutto irrazionale, in modo del tutto dissipativo. Cioè tanto che cosa succede? Che hanno un problema serio dove mettere tutte queste materie prime, dove mettere il petrolio. Il crollo dei prezzi era dovuto proprio questo, era dovuto a una incapacità di stoccare il petrolio estratto e quindi lo mettevano sulle navi cargo, lo mettevano, riempivano gli oleodotti, riempivano gli stoccaggi a terra, ma questo non era più necessario, cioè non era più possibile, non sapevano più dove metterlo e quindi i future erano determinati, i prezzi future erano determinate dalla incapacità di stoccare queste materie prime. Questa crisi di sovrapproduzione non è una crisi di sovrapproduzione dovuta a questa pandemia e su questo voglio essere chiaro. Tutti gli indicatori economici e tutti gli analisti parlavano di una crisi di sovrapproduzione del sistema petrolifero già dal maggio, dal giugno dell'anno scorso, già dal maggio, dal giugno del 2019. Cioè certo c'è stato, si è accelerato con la pandemia questa crisi, questa crisi di sovrapproduzione ma tutti i segnali c'erano, ma è già da anni che si parla di questa, di questa questione qua. Perché? Questo bisogna essere chiari. Perché il mercato geopolitico a livello mondiale è totalmente stravolto, è stato stravolto negli ultimi anni da quella che è la tecnologia. Il fatto che gli Stati Uniti da paesi importatori di petrolio sono diventati il primo e principale, la principale potenza esportatrice a livello mondiale di petrolio e di gas è un fatto che ha devastato totalmente il mercato, lo scacchiere geopolitico a livello mondiale. Cioè quindi non ci sono più le solite potenze, penso all'Arabia Saudita, ai paesi dell'OPEC o alla Russia, ma abbiamo un terzo incomodo che si chiama Stati Uniti, che sono diventati la principale potenza esportatrice a livello mondiale. Dovuto ovviamente, come dicevo, alla tecnologia. Negli ultimi anni il famoso fracking, la famosa fratturazione idraulica delle rocce di scisto o quant'altro, ha portato a una grandissima scoperta di nuovi giacimenti a livello mondiale che hanno totalmente cambiato quella che è la geopolitica degli idrocarburi e la capacità di picco del petrolio e del gas a livello mondiale, facendo una cosa, facendo crollare il prezzo del petrolio. Tanto che il prezzo del petrolio, se anni fa era intorno, parlo dagli anni tipo il 2011, era intorno ai 100 dollari, 110 dollari al barile, si è arrivati a una quota di 40-50 dollari al barile. Per poi arrivare fino ai giorni nostri, in cui è andato addirittura in prezzi negativi. Adesso si è risollevato un attimo, si oscilla tra i 25 e i 30 dollari, che però sono prezzi che creano dei seri problemi alle industrie e le multinazionali. Tanto che le famose potenze a livello mondiale hanno dovuto dare un taglio produttivo serio, l'Arabia Saudita ha dovuto dare un taglio produttivo serio alla sua produzione, la Russia ha dovuto dare un taglio produttivo serio, gli Stati Uniti hanno dovuto dare un taglio produttivo serio. Cito solamente Exxon, Chevron, Conoco Philips, che sono tre principali multinazionali di petrolio americano, da sole a giugno hanno deciso di tagliare di 660.000 barilli giornalieri la propria produzione. Questo cosa vuol dire? Chiudere pozzi, chiudere investimenti, lasciare a casa lavoratori, licenziamenti di massa. In Arabia Saudita, l'Arabia Saudita è uscito un bellissimo articolo, proprio sempre sul sole 24 ore, proprio in questi giorni, si parlava dell'Arabia Saudita, per cui ha deciso di tagliare di un milione di barilli giornalieri, ulteriore ai tagli che aveva già promesso nell'ultimo accordo. Ma questo cosa vuol dire per l'Arabia Saudita? Vuol dire delle fortissime perdite in termini di entrate di denaro pubblico e quant'altro, tanto che l'Arabia Saudita dovrà andare a pescare dalle proprie riserve nazionali, dovrà indebitarsi, dovrà fare delle politiche sociali che non piaceranno molto, tanto che ad esempio una delle prime manovre che si è già deciso di fare in Arabia Saudita cos'è? Guardate caso, l'aumento dell'IVA dal 5 al 15%. L'Arabia Saudita ha dovuto rimandare il proprio progetto Vision 2030, che è un progetto di transizione al di fuori dell'economia basata sulle fonti fossili basate sul petrolio perché ovviamente non ha le entrate necessarie e quindi dovrà andare avanti ancora col petrolio. E qua mi ricollego proprio con quello che dicevo nella prima domanda, cioè dovranno andare avanti di fatto ancora con le fonti fossili. La crisi di questo petrolio avrà degli effetti devastanti su svariate cose. Da un lato vedremo un aumento delle tensioni a livello mondiale tra le varie potenze che potranno sfociare addirittura anche in conflitti militari di carattere regionali per accappararsi degli effetti di mercato, delle guerre in Siria o le guerre in Ucraina saranno dei piccoli avvertimenti rispetto a quello che avremo in futuro proprio dovuto a questa crisi di sovrapproduzione a livello mondiale. Vedremo il fallimento di piccoli stati che si basano sul petrolio, si basano sul gas. Penso al Venezuela, penso alla Libia o addirittura vedremo degli interventi militari proprio per distruggere poi la produzione di questi piccoli stati in modo di fatto che sono stati fondamentalmente che si basano sugli idrocarburi, su politiche dettate dagli idrocarburi e quindi vedremo la distruzione con governi fantoccio proprio che tenderanno a bloccare la produzione in modo da facilitare gli altri grandi produttori a livello mondiale che sono tra l'Arabia Saudita, gli Stati Uniti e la Russia. Vedremo anche le potenze mondiali, quindi Arabia Saudita, Stati Uniti, Russia, attingere alle proprie riserve nazionali. Già se ne sta parlando da qualche mese con un prezzo del petrolio così basso sotto i 30 dollari al barile, sotto i 40 dollari al barile, la Russia dovrà attingere alle riserve nazionali che è riuscita a accantonare in questi anni proprio grazie a una politica dovuta sull'esportazione del petrolio, sull'esportazione del gas naturale. Questi Stati dovranno indebitarsi, dovranno fare delle politiche ad hoc, addirittura politiche di nazionalizzazione per salvare il salvabile, per salvare interi settori, per salvare aziende. Quello che stiamo vedendo in queste settimane negli Stati Uniti ha del paradossale, cioè interi aziende, quelle del fracking, che hanno fatto fior di profitti in questi ultimi anni, che stanno dichiarando default. Perché? Perché si stanno indebitando, perché queste aziende possono andare in pareggio con prezzi del petrolio che oscillano tra i 54 e i 48 dollari al barile. È ovvio che se tu hai dei prezzi del petrolio che sono intorno ai 30 dollari al barile, puoi solamente indebitarti. E quindi arriverà la mano pubblica, arriverà la mano pubblica per cercare di salvare certi settori, per salvare certe aziende e quant'altro. Quello che già sta succedendo negli Stati Uniti. Poi c'è un altro rischio. Il rischio, ad esempio, della concentrazione finanziaria dei vari monopoli, dei vari capitali, con la possibilità di intervento di capitali esteri su determinati asset strategici di determinate aziende. Prendiamo il caso dell'Italia, per essere chiaro su questa cosa. Nelle ultime settimane Eni ha venduto un miliardo di euro di quote a Aramco, ha fatto degli accordi commerciali con Aramco, tanto che il governo, Aramco è quella Arabia Saudita, quindi in mano allo Stato Saudita, tanto che il governo italiano è fortemente preoccupato da possibili scalate estere sugli asset strategici italiani, perché questo vuol dire solo una cosa, vuol dire che potenze mondiali estere compreranno fette di mercato, compreranno fette di aziende di altri paesi per poi chiuderle o rivedere quella che è la produzione. Che effetto avrà, qua per rispondere effettivamente alla domanda, che effetto avrà questa crisi del petrolio sulla questione del cambiamento climatico? È ovvio che con prezzi così bassi le energie rinnovabili non saranno più competitive sul mercato e quindi vedremo nei prossimi anni ancora una politica basata sul fossile, perché le energie rinnovabili non riusciranno a sfondare, non riusciranno a prendere pezzi di mercato, rubare pezzi di mercato a quella che è l'energia fossile. Dico questo perché abbiamo sentito parlare tantissimo nell'ultimo nell'ultimo anno della famosa Green New Deal, Green New Deal di qua, Green New Deal di là, abbiamo visto addirittura movimenti, ma anche movimenti radicali. Parlare di Green New Deal, addirittura si è parlato vogliamo una Green New Deal radical, penso a le parole citate da Baravalle, uno dei leader dei disobbedienti del Veneto, del comitato No Grandinav contro le grandi opere. La Green New Deal, senza entrare adesso nel merito della Green New Deal. La Green New Deal non è una cosa nuova che è nata nell'ultimo anno sulla spinta dei movimenti o quant'altro. La Green New Deal non è neanche nata dalla proposta statunitense, dalla deputata Ocasio Cortes, molto vicina a Bernie Sanders. La Green New Deal è una cosa che è nata nel 2008 da tutta una serie di politici e ambientalisti, gruppi ambientalisti a livello della Gran Bretagna, che si basava su un presupposto. Per loro la Green New Deal aveva senso nel 2008 per un motivo, perché negli anni successivi, quindi successivi al 2008, si sarebbe raggiunto il picco del petrolio e quindi a livello mondiale sarebbe andato di fronte a una crisi del petrolio in termini di capacità produttive, nel senso che non ci sarebbero stati più nuove scoperte di giacimenti e quant'altro e con questo picco del petrolio si sarebbe andati di fronte a un aumento dei prezzi del petrolio dovuti di fatto alle leggi del mercato, alle leggi della domanda dell'offerta. Quello che è successo è l'esatto contrario. Cioè i presupposti della Green New Deal del 2008 sono totalmente scemati, perché proprio con la tecnologia del fracking, con la tecnologia di questa fratturazione idraulica abbiamo visto a livello mondiale scoperte di giacimenti o di riserve grandissime a livello mondiale di idrocarburi che hanno di fatto portato a un crollo dei prezzi, tanto che ci troviamo di fronte a una crisi di sovrapproduzione che nelle ultime settimane potrebbe coprire addirittura anche il gas, vedere addirittura prezzi negativi per quanto riguarda i future del gas naturali. È ovvio che con questa cosa le energie rinnovabili non saranno mai competitive, quindi nei prossimi anni vedremo proprio continuare su le politiche fossili. Bene, tu proprio nell'ultima parte del tuo intervento parlavi sulla questione degli investimenti e delle politiche di Green New Deal. Ora per molta parte della sinistra la soluzione a questa crisi economica è di massiccio investimento statale per salvare fondamentale del pianeta e per far riprendere con più vigore l'economia mondiale e chiaramente pensano che Green New Deal, l'investimento in energie alternative, possa essere decisivo in questo campo. Potresti incentrarti maggiormente su questo aspetto nella tua risposta? Sì, questa Green New Deal, per essere breve anche perché abbiamo già preso parecchio tempo, allora la Green New Deal innanzitutto rischia di sfumare tutte le varie promesse di Green New Deal, a partire dalla Green New Deal europea rischia di sfumare totalmente con la crisi economica in atto e già lo dicevo, perché per avere una Green New Deal tu devi avere dei forti investimenti statali. La Green New Deal si basa su politiche chienesiane, quindi su politiche di debito, di forte indebitamento, cosa che gli stati nazionali, attualmente le varie potenze, non possono permettersi. Perché? Perché già abbiamo un fortissimo debito pubblico che verrà accentuato dalle varie politiche per la ripresa economica. È ovvio che non potranno permettersi ulteriori manovre nella direzione di costruire infrastrutture per la Green New Deal. Perché? Perché il problema è proprio questo, cioè che la Green New Deal, le varie politiche di Green New Deal, tu puoi farle costruendo una nuova infrastruttura. Tanto che i principali economisti che mettono sul piatto della bilancia la Green New Deal, partono che il presupposto per una Green New Deal è proprio quello di una terza rivoluzione industriale. Penso a economisti come Jeremy Rifkin, Jeremy Rifkin che ha fatto questo libro che va molto di moda, tra l'altro anche tra gli ambienti, tra la sinistra radical, si chiama per una Green New Deal globale, Jeremy Rifkin parla proprio di terza rivoluzione industriale che si basa sull'infrastruttura dell'internet delle cose. Cosa vuol dire l'internet delle cose? Vuol dire un'infrastruttura che si basa su una fortissima comunicazione, quindi una velocità di comunicazione, quindi di tecnologie a partire dal 5G ad esempio, la mobilità e la logistica. Guardate compagni, il problema è che questa crisi economica ha di fatto messo in fortissima crisi proprio questi tre settori. Rifkin prendeva come modello di sviluppo economico, come modello economico da portare avanti per la rivoluzione, per la sua rivoluzione industriale green, la sharing economy. E diceva, con la sharing economy noi riusciremo a fare la Green New Deal, con la sharing economy noi riusciremo a fare questa transizione ecologica che addirittura porterà a un superamento delle basi capitaliste e andremo di fronte a un capitalismo del dono, a un capitalismo sociale dove tutti ci vorremo bene, non ci saranno più classi sociali e staremo tutte bene. Bene, la sharing economy è uno di quei settori che è entrato più in crisi con questa crisi economica. Perché? Perché la sharing economy si basa fondamentalmente sul settore della ristorazione, sul settore, basati sul consumo principale, sul settore della ristorazione, sul settore del turismo, sul settore dei trasporti, che con questa pandemia, con questa crisi economica è in fortissima crisi. Uber ha dichiarato il 14% dei licenziamenti, con 3.700 licenziamenti. Airbnb ha dichiarato licenziamenti per il 25% della propria forza lavoro. Lyft, che è un'altra azienda americana di car sharing, ha dichiarato mille persone licenziate. Il mercato della sharing economy in Cina durante la pandemia è crollato del 90%, tanto che per assurdo Airbnb doveva debuttare a marzo in borsa e Airbnb ha deciso di non debuttare e a mettere a data da destinarsi proprio il debutto in borsa, perché ovviamente sarebbe un tracollo. Se noi vediamo i listini di borsa delle aziende di sharing economy che sono proprio in borsa, vediamo i listini che hanno avuto un tracollo, proprio un tracollo con degli effetti devastanti. Quindi, se noi partiamo da questo presupposto, capiamo che l'infrastruttura è un'infrastruttura che non può tenere di fronte a quella che è la crisi, ai meccanismi interni del capitalismo stesso, alla sovrapproduzione, al calo tendenziale del saggio di profitto. è un modello che non può proprio resistere al capitalismo. Oltretutto c'è da dire una cosa, questi settori della sharing economy sono proprio quei settori dove lo sfruttamento dei lavoratori è al massimo, perché si basano fondamentalmente sul massimo sfruttamento possibile per abbassare i costi di produzione. Non è un caso che il settore della logistica, il settore della ristorazione, il settore ad esempio dei famosi rider, sono i settori dove c'è la massima precarietà, dove non esistono i diritti, dove ci sono paghe da fame e quant'altro. Bene, cioè fondare una infrastruttura da terza rivoluzione industriale su questa cosa qua vuol dire di fatto costruire una cosa sul massimo sfruttamento. Detto questo, rimane poi sempre il problema dove attingere i fondi, dove prendere i fondi per questa terza rivoluzione industriale. Rifkin dà una soluzione, dà una soluzione che piace molto i padroni, perché? Perché non parla di investimenti pubblici, non dice che gli stati devono indebitarsi, come quindi propone la vecchia politica keynesiana e quant'altro. Dice tutt'altro, dice dobbiamo utilizzare i fondi pensione, prendere quindi i soldi direttamente dalle tasche dei lavoratori, quindi prendere i soldi dai salari differiti di milioni di lavoratori a livello mondiale perché questi soldi possono garantire investimenti privati. Quindi socializzare i fondi dei lavoratori, i soldi dei lavoratori, i salari dei lavoratori per garantire profitti privati, a bel modo, grazie. Grazie, se questo qua è il modo per fare la terza rivoluzione industriale green, cioè andare direttamente dai lavoratori, cioè non si propone di andare a prendere i capitali dall'industria climalteranti e obbligarle alla transizione ecologica. No, non si propone nulla di questo, si propone di andare direttamente dalle tasche dei lavoratori. Quindi attenzione a prendere come modello il modello di Rifkin perché il modello di Rifkin è un modello del tutto reazionario per quanto riguarda i lavoratori. Quindi lo dico attenzione perché Rifkin piace molto a sinistra. Rifkin è un reazionario che piace molto a, come si può dire, i capitalisti della finanza perché sanno sì dove andare a prendere i soldi direttamente dalle tasche dei lavoratori. Ecco, grazie Enrico per la tua risposta. Ora, negli ultimi periodi, con lo scoppio della pandemia di coronavirus c'è passo evidente che le grandi mobilitazioni che avevano riempito le piazze di tutto il mondo nell'anno dal marzo del 2019 attorno al movimento Friday for Future si sono entrate in un impasse, siano chiaramente in difficoltà. Vorresti darci la tua opinione sulle ragioni per cui oggi il movimento Friday for Future è in realtà un video? Sì, la difficoltà dei movimenti ha svariate sfaccettature. Noi abbiamo visto due tipi di movimenti negli ultimi anni. Abbiamo visto un movimento giovanile come quello di Friday for Future che ha visto milioni di giovani scendere in piazza anche a livello italiano e poi abbiamo visto i famosi movimenti contro le grandi opere che ha messo assieme tutta una serie di comitati a livello nazionale. Da un lato abbiamo visto molti di questi movimenti a partire da Friday for Future avere enorme fiducia nelle istituzioni. Quindi un grande tentativo di conciliare, di conciliarsi con le istituzioni, di chiedere alle istituzioni di rispettare i loro programmi, di fare qualcosa che loro chiedevano e quant'altro. Il problema è che hanno preso il 2 di picche perché poi quello che è successo è che le istituzioni hanno fatto piccolissime promesse e che adesso non manterranno neanche proprio per questa crisi economica in atto. Quindi di fatto si sono persi mesi di battaglie nella lotta verso le istituzioni che non porteranno da nessuna parte. dall'altro c'è un fortissimo frazionamento di queste lotte. Penso ai vari comitati. Non si è mai arrivato a un dunque. Ogni comitato ha sempre cercato di portare avanti il proprio orticello senza guardare nel complesso la questione. Quindi ognuno faceva, diceva che era più importante la lotta contro le autostrade, contro l'alta velocità, contro il gasdotto, contro la centrale, contro la terra dei fuochi e quant'altro senza capire nel complesso che cos'è? È il sistema totale che deve fare unire questi movimenti in un unico movimento grande a livello ambientalista contro il sistema e il modello di sviluppo economico. E quindi il problema era un programma di programma. Perché? Perché questi comitati, questi movimenti portavano avanti un programma prettamente riformista. Quindi, basandosi ognuno proprio sul proprio orticello, dicevano bisogna dire stop a questo. E ci si limitava lì. Quando invece non si metteva in dubbio l'intero modello di sviluppo capitalista. e non si faceva un chiaro riferimento di mettere in discussione il capitalismo. E questo è successo anche all'interno di Friday for Future. Tanto che noi, come sinistra classe di rivoluzione, abbiamo fatto una battaglia per questo, dicendo Friday for Future deve prendere una piena posizione anticapitalista. e questo non è stato permesso. Non si è riusciti a far passare questo concetto nella direzione del movimento di Friday for Future. Nonostante milioni di persone a livello italiano, di giovani a livello italiano a livello mondiale scendevano in piazza contro il cambiamento climatico mettendo in discussione lo stesso modello di sviluppo economico che è quello capitalista. quindi c'è poi un altro problema serio per questi movimenti che non si sono mai riusciti a collegare proprio a radicare tra i lavoratori tra il movimento di massa. Con questa pandemia, con questa crisi economica, con la famosa questione di riaprire le aziende perché è necessarie, il lavoro è necessario e quant'altro, abbiamo visto per l'ennesima volta come il movimento operaio, come i lavoratori siano al centro della questione. Cioè, chi di fatto produce sono i lavoratori e quindi i lavoratori detengono le leve del potere economico, di fatto, detengono i mezzi di produzione, cioè detengono perché li usano, ma non li posseggono in termini di proprietà. E' questo il problema, perché in termini di proprietà è capitalista. E purtroppo, purtroppo lo dico, questi movimenti non si sono mai riusciti a collegare seriamente col movimento degli operai. Anzi, con tutta una serie di politiche, di proposte, si è fatto l'esatto contrario. Perché? Perché sul piatto della bilancia, prendo il caso dell'ILVA, ad esempio, uno dei casi più emblematici a livello italiano, da un lato gli ambientalisti dicevano chiudiamo l'ILVA, dall'altro i lavoratori dicevano che per noi l'ILVA serve perché ci serve per lavorare. Non si è riusciti mai a coniugare queste due lotte in un'unica lotta. E quindi si è sempre stati in contraddizione di fatto capitare, cioè da un lato il lavoro e dall'altro la natura. Cioè questa contraddizione fondamentale è natura-lavoro. Ma il problema qual è? Che se tu non hai una chiara prospettiva anticapitalista resterai sempre in questa contraddizione. Non riuscirai mai a far conciliare queste due cose e quindi vedrai i lavoratori da un lato e i movimenti ambientalisti dall'altro. Quello che noi diciamo è che questi movimenti devono fare un passo verso il movimento dei lavoratori è ovvio che devono farlo con un programma anticapitalista con un programma serio perché altrimenti non esci da questa contraddizione. Dico di più ci sono movimenti che purtroppo addirittura hanno parlato hanno detto questa pandemia è la cura perché è l'uomo il modello dell'uomo che è il male che è la malattia quindi per pandemia il fatto che questa pandemia ha fatto bloccare le attività produttive ha fatto ridurre in questi mesi gli indici di inquinamento è fuori di dubbio ok su questo non ci piove però questa posizione è una posizione del tutto settaria è una posizione che non riuscirà mai a radicarsi tra i lavoratori perché è una posizione che mette in contraddizione il diritto al lavoro che mette in contraddizione il diritto alla vita al mangiare dei lavoratori da un lato con il diritto di tutta il diritto alla vita il diritto all'ambiente il diritto all'antura dall'altro cioè questa posizione settaria è una posizione veramente grottesca ok è una posizione che secondo me è una posizione reazionaria cioè perché noi non possiamo elogiare la pandemia perché ha fatto crollare gli indici di livello di inquinamento perché non è questo il modo perché possiamo vederlo in questi giorni di riapertura vediamo i fiumi che sono tornati con sversamenti vediamo fabbriche come l'ultima ieri a Marghera in questi giorni a Marghera che sono scoppiate e mi immagino anche l'inquinamento e bruciate mi immagino anche l'inquinamento atmosferico tanto che hanno detto agli abitanti chiudete le finestre quindi capite che non è quella la soluzione cioè i movimenti devono fare un salto qualitativo perché altrimenti questi movimenti rischiano rischiano seriamente le colpe dei dirigenti del movimento di radio for future sono tante nonostante questo milioni di persone soprattutto giovani sono scese in piazza venerdì e in altre occasioni per cercare di cambiare il mondo e per cercare di lottare contro questo sistema che ritenevano giustamente colpevole dello sfacelo e della crisi ambientale cosa possono dire cosa devono dire i marxisti a questi giovani che oggi vogliono ancora lottare contro i climatici sì compagni proprio per concludere io penso che come marxisti su questa questione del dell'anticapitalismo cioè che per risolvere la questione climatica l'unica soluzione è una politica anticapitalista è il punto principale su cui dobbiamo batterci e poi la questione del collegamento col movimento operaio come dicevo prima e al centro della questione dei lavoratori al centro della questione della pandemia vediamo il ruolo centrale della classe lavoratrice finché noi non arriviamo come movimenti ambientalisti lì noi non riusciremo mai a sviluppare i presupposti per un movimento di massa tra i lavoratori per proporre una soluzione un'alternativa una transizione ecologica ma siccome è il ruolo centrale dei lavoratori nella produzione il problema qual è? il problema è che finché noi non diciamo chi deve produrre chi deve avere in mano le leve della produzione a tutti gli effetti noi non riusciremo mai a porre le basi per una transizione in che senso? nel senso che finché ci sarà la logica del profitto la logica della proprietà privata dai mezzi di produzione e quant'altro noi non potremo mai avere una transizione ecologica se invece noi diciamo che chi produce quindi i lavoratori decide cosa produrre ok allora noi riusciremo a fare un ragionamento di pianificazione economica con una transizione ecologica sulla questione dico questo perché perché il problema capitalista è un problema di irrazionalità lo dicevo prima cioè distruggiamo la produzione uccidiamo i suini piuttosto di regalarli distruggiamo le arance piuttosto di regalarli buttiamo via il latte piuttosto di regalarlo nonostante ci sono milioni di persone che muoiono di fame distruggiamo la produzione di petrolio piuttosto di lasciarla sottoterra un modello di sviluppo del tutto del tutto irrazionale che non ha senso questo è il capitalismo quindi finché la produzione le leve dell'economia non saranno in mano ai lavoratori e non si riuscirà a fare una produzione pianificata noi non riusciremo a risolvere il problema perché il problema è il capitalismo il problema è questo quindi noi chiediamo cosa la nazionalizzazione e il controllo delle aziende della produzione e degli asset strategici e delle aziende climaalteranti perché se vogliamo risolvere il caso dell'ILVA possiamo farlo solamente nazionalizzando e mettendo sotto il controllo dei lavoratori e delle comunità quella produzione perché la tecnologia ci dice che è possibile fare l'acciaio pulito ma non è possibile farlo sotto capitalismo perché il capitalismo ha bisogno di costi di produzione bassi e quindi e se non dovesse esserci la tecnologia possiamo anche riconvertirla in altro tipo di produzione quindi il problema è lì nazionalizzare e controllo il controllo della produzione Marx è chiarissimo e anche Engels sono chiarissimi nei loro scritti nel dire che il capitalismo è incapace di avere di garantire un metabolismo uomo-natura cioè questo metabolismo questo ricambio organico loro dicevano tra l'uomo e la natura tu puoi averlo solamente se espropri quelle che sono le leve della produzione e le dai in mano alla classe lavoratrice che è la classe produttrice in un'economia pianificata e concludo dicendo una cosa io penso che non bisogna cercare nuovi termini grandissime soluzioni quant'altro il problema è il problema anticapitalista e ci sono dei modelli economici che si sposano bene su questa questione penso al modello dell'eco-efficacia l'eco-efficacia è un modello che si basa proprio su come se il livello cioè l'industria produttiva fosse un proprio ecosistema che deve fare in rete con altri ecosistemi quindi con l'ambiente ecco il modello dell'eco-efficacia quindi garantire che la produzione non abbia scarti che la produzione sia completamente a ciclo continuo chiuso cioè nel senso senza scarti quindi io produco una cosa e quella cosa che produco può diventare un'altra produzione faccio un esempio ad esempio dei vestiti che possono diventare concimi esistono queste tecnologie ok esistono il problema che da un punto di vista capitalista queste tecnologie non garantiscono il massimo profitto e quindi non vengono fatte quindi da un punto di vista marxista l'eco-efficacia è al centro proprio della questione del metabolismo uonomo e natura per cui noi come sinistra classe rivoluzione lottiamo perché è al centro del nostro programma che si collega con la questione del controllo operaio della produzione delle leve della produzione e quant'altro ringraziamo Enrico per questa interessantissima conversazione penso che abbia toccato degli argomenti che sono decisivi per chiunque si vuole porre su un terreno rivoluzionario e gli appuntamenti di sinistra classe rivoluzione non finiscono questo lunedì le interviste continueranno tutti i lunedì e la prossima settimana avremo con noi Josep Pereira da Santa Cruz in Bolivia che con cui discuteremo parleremo dell'ascesa e del declino di Evo Morales attraverso questo decennio che ha visto rivoluzione contro rivoluzione combattere aspramente nel paese andino vi ringraziamo restate con noi nelle prossime giorni e settimane con i nostri appuntamenti buona serata grazie a tutti Grazie.